Abbiamo anche la legale, la resta è la legale, e invece, che si fa un film? Il libro, per quale? Seguendo un disegno che si fa un film, il libro è un attimo, il nebo all'altro. Grazie. 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 La chiesa è poi, la piccola e piccola, che si fa e dall'elfo, può affrontare il film, perché inevitabile, quella dell'allocerzione, o una maestranza scavente, o scavente materiale, quando cominciano a restaurare, la bianca, che è il primo, il primo messaggio di questo film, Grazie. 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 Perchè? Del pellicano un po' lo sapevo, ma sapevo quello che si deriva la madre per andare a mangiare al figlio dell'ucidino morente. E' bella, no? Con quelle ruote. Si vede anche un po' più del lago. Che lago è quello? Il lago di Lugano? Anche qui c'è un bel pavoro a mangiare. Ti piace questo o no? Se ne è bello questo, non so io. Sto venendo già la chiesa, inanzi. E' bella la gittarella, bella pastigiatina. Dai, 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 che ce la fai? Dai, dai, dai. Come scusa? Sai come si chiama strada qua? Vieni, però... Vieni, siamo arrivati alla strada. No. No. Una strada. Grazie a tutti. I sogni di Gianni, artista del luogo, molto capace. Controllo se funziona. Grazie. Grazie a tutti. 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 l'espressione dove si va? su di qua il sentiero delle espressioni signore il sentiero delle espressioni c'è un'indicazione qui ci sono due o tre modo per andare ok grazie su pensa come vuoi vuoi pensare a fare l'effetto carattolo il sentiero l'espressione proseguiremo il crinale in direzione onazzo e proseguiamo aiuto contrabbandiere il nome opaccio gioancola allattamento albero del pane accesso colosi il guardiano sorpresa saggezza sessualità magia passaggio allegria enigma montagna il pensatore costo della vita e il barco vita da confini capito? andiamo ma io volevo capire dove eravamo arrivati noi dove siamo adesso qui con queste finestre così strette via delle alpe un'ora del primo momento 010 comanda boss 030 ah e ci vedi un secondo? dobbiamo Fagli le carezze sulla faccia, vieni giù, vieni pure giù, adesso facciamo insieme, tu stai di qua, tu stai di qua, tu stai di là, sta un po' indietro, tra poco siamo arrivati? Andiamo. Fin dei comiti, 1.008 metri, pressioni. I bucati del sentiero, che sarà lì adesso, il prato del bosco, il giugno del Pasqua e non ce l'ha più com'è. Eh? Arrivi Mosè. Lì alla mostra di erba, no? C'erano questi mascherati di schignano, che sono stessi che fanno qui le statue, no? Ma sono bravi, bravi eh! Buon bacù! Fa caldo eh! Ehi, dobbiamo, fai il bagno! Eh? Mamma mia che stessa! La coppia più bella del mondo! Cazzo qui! Dove sta facendo mascherati schignano, facendo giugno del sementi, un po' il lago, Grazie. 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 San Primo, Neso, Veleso, Zerbio, Mezzurrimo, Grazia, se non avevo le zone, l'azzo di Nelviso. Monte Comando, 10 metri. Mi sono entrato allo sfizio. Mi sono entrato allo sfizio. Questo l'ho visto prima. Muuu. 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 e 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 così è finita come le espressioni trappi con me lungo un percorso della safaresa regionale tra le ragazze fino al belvedere per le discorse disponibili sul virtuismo la protolina vabbè ok e 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